Festa della donna premiate 8 storie di donne, riconoscimento speciale alle donne iraniane, il presidente del Consiglio regionale, Mazzeo, le istituzioni lavorino perché la parità sia effettiva. Sabato 11 marzo al Via, al Palio dei Somari di Torrita di Siena, le 8 contrade danno vita a tanti eventi collegati alla rivocazione storica, giunta la 66esima edizione. Più alta onorificenza del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento, consegnato ai bandierai degli Uffizi per i loro 50 anni di attività. 8 eccellenze della Toscana Un premio a 8 storie di donne, spesso lontane dai riflettori, che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. E a fianco a queste un riconoscimento speciale alle donne iraniane, impegnate nella battaglia per la loro libertà, per l'occasione rappresentate dal movimento Donna Vita Libertà. Così l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, sulla scorta di quanto avvenuto dal 2021 a questa parte, ha celebrato la Festa della Donna 2023. La cerimonia si è svolta nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, dove il Presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, Antonio Mazzeo, ha salutato le premiate ai tanti partecipanti, sottolineando come tante presenze sono il segno più bello dell'importanza di questa giornata. Per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. E' un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. Poi abbiamo voluto premiare otto donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo. A volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. Questo è il senso dell'iniziativa di oggi, un'iniziativa voluta da tutto l'ufficio di presidenza. Insieme al presidente Mazzeo erano presenti i vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci, i consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza Federica Fratoni e Diego Petrucci, la presidente della commissione Pari Opportunità Francesca Basanieri, la difensora civica Lucia Annibali e la garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi. È stata una bellissima iniziativa, emozionante, a tratti anche commovente perché abbiamo ascoltato storie che comunque ci toccano profondamente di sofferenza, però è stato molto bello ascoltare i racconti di vita di queste donne straordinarie, effettivamente, che hanno raggiunto con anche la loro capacità di sognare le proprie ambizioni e quindi hanno esercitato appieno la propria libertà di esserci e di realizzarsi nel mondo del lavoro anche su un piano personale. Quindi credo che ritrovarsi, riflettere intorno alle storie delle donne sia sempre un momento di grande crescita sociale, culturale, anche economica, per il nostro paese e per noi tutti, perché ci porta a riflettere su dove siamo, ma anche su quello che possiamo fare. I racconti delle donne sono effettivamente sempre molto emozionanti, molto affascinanti e servono per tenere accesa questa speranza e per stimolare anche però la necessità di un impegno, di una crescita proprio della nostra società. Quindi comunque una bellissima iniziativa e complimenti naturalmente al Consiglio regionale, il Presidente e a tutte le donne premiate. Valeria Piccini, chef stellata, Martina Trevisan, sportiva, Liliana Dell'Osso, psichiatra, Francesca Biagini, docente universitaria, Lucia Ghieri, imprenditrice, Sara Montemerani, medico, e poi le archeologhe di San Casciano dei Bagni e Violante Gardini Cinelli Colombini, ancora imprenditrice. Queste le donne premiate, otto esperienze eccellenti che portano in alto il nome della Toscana. La ricerca in ambito medico è un risultato di un lavoro in equip e quindi è un premio a tutto il mio gruppo di allievi, di studenti che ci seguono, quindi sicuramente per questo mi ha veramente emozionato. Io ho pazienti che vengono anche dall'Europa e non è merito mio. Io mi devo riconoscere il merito di aver stabilito con me stessa quando sono diventata direttore che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano. Ecco, questo impegno l'ho mantenuto perché le pubblicazioni scientifiche sono sotto gli occhi di tutti e quindi penso il mio compito anche di appassionare alla ricerca tante generazioni di giovani di averlo svolto. L'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. È un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. dedico la premiazione a chi mi è stato accanto a chi mi è stato accanto da casa a chi mi è stato accanto là anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equip quindi io in realtà sono soltanto uno a delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia perciò un ringraziamento speciale una dedica speciale va a tutti loro. Io ho fatto una carriera internazionale però per me le radici, la famiglia anche l'essere toscana sono sempre stati fondamentali e vi spiego anche perché per due fondamentali ragioni la prima è perché io ho avuto la fortuna essendo toscana di poter partecipare e essere accettata in molte istituzioni d'eccellenza qui in Toscana e qui parto dalle avanguardistiche scuole materne degli anni 70 qui in Toscana fino all'Università di Pisa e nel mio caso alla scuola normale di Pisa e questo mi ha dato le competenze sia personali che scientifiche poi per fare la carriera che ho intrapreso e quindi per me sarebbe importante anche mandare un messaggio alle istituzioni toscane affinché si prendessero cura e promuovessero queste entità di eccellenza toscane che però sono uniche nel mondo e la seconda ragione per cui sono molto fiera di essere toscana è che io ho vissuto questa sagacità questo spirito frizzante e anche un po' irriverente toscano questa ironia, questa heteronia che mi ha dato molta forza in tutte le difficoltà che ho incontrato perché fare una carriera in matematica internazionale non è una passeggiata è un grande piacere è un onore essere qui oggi con donne di talento e coraggiose tutte insieme in Toscana io mi sento onorata di essere toscana e di poter fare il lavoro che ho sempre amato penso che essere una donna sia una cosa importante e qualcosa che può dare un'opportunità in più il mio percorso inizia dalle associazioni quindi io ho sempre creduto che insieme si possa raggiungere obiettivi più forti il tutto inizia quando ero piccolina in associazioni di servizio io facevo parte del Leo i giovani del Lions e ho sempre creduto che quando siamo in gruppo e si ha un obiettivo e si fanno le cose insieme si riesce a farle meglio e arrivare più in alto con questo obiettivo sono arrivata alla presidenza dell'associazione giovani imprenditori vinicoli italiani e poche settimane fa ho ripreso la presidenza del movimento turismo del vino toscana il nostro gruppo è composto soprattutto appunto da ragazze da archeologhe sia studentesse che appunto archeologhe già laureate e specializzate ma all'interno di questo progetto non ci sono appunto solo archeologhe ma ci tengo a ringraziare anche la nostra sindaca Agnese Carletti la presidente dell'associazione archeologica Irene Picchieri e tutte le altre donne e ragazze che tramite l'associazione archeologica contribuiscono al nostro progetto e noi oggi rappresentiamo qui anche tutta la categoria delle archeologhe perché la nostra professione spesso diciamo non viene riconosciuta nel senso che abbiamo delle difficoltà in quanto donne in ambito lavorativo e quindi oggi abbiamo l'occasione essendo qui di essere diciamo portavoci di tutta la nostra categoria Il Palio dei Somari A pochi giorni dal suo inizio la 66esima edizione del Palio dei Somari è stata presentata presso la sede del Consiglio regionale della Toscana La manifestazione di Torrita di Siena si aprirà il pomeriggio di sabato 11 marzo con l'estrazione delle batterie per la fase di qualificazione della corsa Il sorteggio degli abbinamenti precede l'apertura delle taverne tappe del tradizionale itinerario gastronomico allestito nel fine settimana dalle otto contrade nel centro storico di Torrita di Siena e allietato dalla presenza di artisti acrobati e spettacoli in stile medievale Domenica si aggiungono poi Somarando il parco con attività dove i bambini possono incontrare i somari e la festa dei giovani sbandieratori e tamburini Il programma del palio dei somari prevede vari eventi dall'11 al 19 marzo la giornata clou della manifestazione sarà proprio quest'ultima quando nel pomeriggio scatterà la corsa La giornata del 19 si apre con il corteo storico corteo storico messa celebrativa numeri di vari sbandieratori e tamburini e di gruppi fino all'accompagnamento all'orario del pranzo all'orario del pranzo si interrompe un po' tutto per ritrovarci verso le due e mezzo le due e mezzo le comparse si ritrovano nel chiesa dove la mattina abbiamo fatto la celebrazione ecclesiastica e da lì fanno un ultimo pezzettino di corteo questa volta munite di fantino perché da lì in poi si inizierà a correre il palio palio che sostanzialmente è composto da quattro batterie perché a Torita ci sono otto contrade quattro che fanno parte del borgo medievale quattro che sono le dirette esterne in proiezione delle quattro contrade interne al borgo medievale ci sono quattro batterie le quattro vincenti vanno a disputare la finale le quattro perdenti disputano una batteria di recupero dalla quale ne esce una quinta selezionata la quinta selezionata si va ad accompagnare le quattro che hanno già vinto le batterie e correrà la finale il palio dei somari di Torita è arrivato alla 66esima edizione è una delle tracce della nostra cultura materiale troppo spesso vengono derubricate questi momenti a folklore a tradizione popolare come se non fosse importante già questo in realtà sono davvero tracce profonde di che cos'è la storia del nostro territorio del suo sviluppo economico gli animali come il somaro erano animali contigui alla vita dell'uomo delle famiglie della produttività dei territori quindi un momento di festa che Torita coltiva da anni con davvero un'attenzione una precisione con un corteo storico ricchissimo e con questo animale che è un animale simpatico affidabile anche un bel simbolo di operosità perché venire a Torita di Siena in questa settimana? perché organizziamo la festa più importante del paese una festa che è da 57 anni che viene organizzata e nel tempo è cresciuta moltissimo ed è rappresenta la nostra cittadina nel senso che coinvolge tutti i cittadini da quelli più piccoli ai più anziani proprio perché nasce nel 66 per volontà di alcuni artigiani e nel tempo sono stati bravi a tramandarla ed è sentitissima quindi è partecipata veramente tutta la popolazione quindi Torita in questi giorni è il meglio di sé e si fa bella per gli ospiti e anche per sé oltre alle sfilate delle contrade abbiamo le chiarine il gruppo sbandieratore e tamburini e anche i rappresentanti dei quattro antichi castelli di Torita di Siena che sono Sciliano, Montefollonico Guardavalle e La Fratta ecco una rievocazione storica che poi sfocia nella corsa dei somari in rappresentanza delle otto contrade è una manifestazione che richiama molto turismo e che ha una rilevanza importante sia a livello toscano ma anche internazionale in quanto il nostro gruppo sbandieratore spesso si reca all'estero a fare dei gemellaggi con gruppi medievali e questo dà una bella rilevanza per quello che riguarda la rievocazione storica avviene il 19 di marzo ancora prima del capodanno dell'annunciazione toscano forse fa d'apripista anche a tutte quelle che sono le rievocazioni storiche che ci sono in Toscana il gonfalone ai bandierai degli uffizi uno spettacolo suggestivo e pieno di colori offerto dagli sbandieratori ufficiali di Firenze nel cortile di Palazzo del Pegaso ha preceduto la cerimonia di consegna del gonfalone d'argento la più alta onorificenza del consiglio regionale ai bandierai degli uffizi per i loro 50 anni di attività ad accompagnare i bandierai fino alla sede dell'assemblea legislativa è stato il presidente Antonio Mazzeo che ha seguito il corteo partito dal palaggio di parte Guelfa la loro la storia di 50 anni la capacità anche di sapersi innovare il modo di saper raccontare le tradizioni della Toscana la Toscana è una delle terre più belle ci sono al mondo e la loro capacità di saper non solo sventolare una bandiera ma anche raccontare le nostre tradizioni è qualcosa che abbiamo voluto premiare con questo riconoscimento la storia dei bandierai degli uffizi è raccontata nella mostra mezzo secolo per Firenze in corso presso la sala d'arme di Palazzo Vecchio 50 anni di attività ininterrotta quindi un premio che va non solo a chi è in costume oggi ma chi è stato in costume in questo percorso in questa storia noi abbiamo rappresentato oltre alle tradizioni fiorentine Firenze e l'Italia nel mondo in occasione di importanti eventi anche sportivi come i mondiali di calcio nell'86 a città del Messico e altre occasioni siamo conosciuti in tutto il mondo ed è la forza dei volontari che prendano un tamburo e una bandiera e si sentano così a rappresentare Firenze e veramente la Toscana in giro per il mondo grazie ancora al Presidente e a tutto il Consiglio regionale Grazie a tutti